Avevo 13 anni quando ho incominciato la scuola di musica. Il nostro maestro era Walter, un ragazzo di 23 anni con la passione per la musica. Oltre a insegnarci il sciolteggio e lo strumento, dirigeva la banda sia nelle prove che nei concerti. Le prove si rivolgevano sabato sera, dopo cena. Ricordiamo ancora bene le sue arrabbiature, tanto da arrivare a spezzare la banchetta da direttore, però dopo le prove ci portava a mangiare in pizzeria o biraria. Grazie Walter.